quante strade deve percorrere un uomo prima che lo chiamino uomo e quanti mari deve varcare la bianca colomba prima di posarsi sulla spiaggia e quante volte devono fischiare le palle di cannone prima di tacere per sempre la risposta amico mio la sta portando il vento quante volte un uomo deve guardare in alto prima di riuscire a vedere il cielo e quante orecchie deve avere un uomo prima di accorgersi del pianto del mondo e quante volte dovrà morire un uomo prima di sapere che troppa gente è morta la risposta amico mio la sta portando il vento quanti anni può resistere una montagna prima di dissolversi nel mare e quanti anni dovrà vivere la gente prima di essere veramente libera e quante volte un uomo può chiudere gli occhi per fingere di non vedere la risposta amico mio la sta portando il vento